Un grande in bocca al lupo e un ringraziamento a tutti i partecipanti della Virtual Venice Marathon e a tutti gli organizzatori della Venice Marathon che quest'anno hanno avuto il coraggio di non mollare e nonostante tutte le difficoltà si sono inventate questa nuova gara virtuale. Grazie, grazie a voi che comunque promuovete sempre il territorio di Venezia e della città metropolitana e grazie a voi che tenete vivo la volontà e l'entusiasmo di tutti i partecipanti e non mollate mai soprattutto come fanno tutti i corridori. Quindi grazie, in bocca al lupo e Forza Venezia! Grazie a tutti!